L'armatura lucente, lo sguardo fermo e il contegno regale sono sufficienti per cogliere l'importanza del personaggio. Al pittore e ritrattista di Carlo I era stato chiesto infatti di rendere paelese agli occhi di tutti gli osservatori la maestà del re. Dopo aver studiato con Rubens da Anversa, Van Dijk si trasferì a Londra e poi in Italia. Qui adottò uno stile di pittura più elegante che conservò per tutta la vita e che fu all'origine della grande tradizione ritrattistica inglese. Le sue opere raffiguravano in genere snelle figure di nobiluomini in atteggiamento fiero e Van Dijk fu spesso accusato di compiacere eccessivamente i propri modelli, ma non tutti la pensavano così. La contessa del Sussex, alla vista del proprio ritratto, disse di sentirsi molto scontenta di sé. Il viso è così grosso e grasso che non mi piace proprio per nulla, sembra uno di quei putti sbuffanti sulle banderuole, ma in verità temo che somigli all'originale.